Scusate . . . Ma accendi, schiaccia qua, ma metti la chiave, ma fai qualcosa, ma io non lo so, a parti, maledetta, a parti, ma come non fa, ma l'hai messa la benzina, la benzina, ragazzi, ragazzi, ma ancora qua siete? Eh sì, la macchina di Gigi non parte, fra tre ore c'è la semifinale, la semifinale, la semifinale, brutto cattorcio, maledetto, la semifinale, brutto cattorcio, a chi, a chi a mia moglie, e guarda, 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 bene, bene, questa dobbiamo proprio dirla, Laura, cosa dite, la chiamiamo? No, 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 calma, 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 adesso anche te ti ci metti, già una tragedia, anche tu ti metti a fare le chiamate, non... Amore, stiamo calmi, eh? Cosa mi tocca fare? Vediamo se riesco a farvi andare a questa partita, dai. Ecco, pensaci tu, tu risolvi sempre tutto, amore. Pronto, buongiorno. Senta, mio marito è nella macchina di un amico, la macchina non vuole proprio partire, sa che stasera c'è anche la partita dell'Italia. Cosa possiamo fare perché altrimenti a mio marito viene un attacco di panico? Buongiorno, signora, stia tranquilla, le mandiamo un carro attrezzi e diamo agli occupanti del veicolo un voucher per un taxi. Ah, perfetto. Grazie, grazie mille, buona serata, arrivederci. Ma scusa, ma noi con la nostra assicurazione possiamo chiamare l'assistenza anche per la macchina di un nostro amico? Allora, se questa sera mi fate vedere la partita, io vi faccio la spesa per un mese, giuro. Beh, allora Gigi, preparati perché il carro attrezzi sta già arrivando e voi, amore, andate tutti a vedere la partita ai tassi. Amore, avresti dovuto vederla? Oh, non hanno mai giocato così, è stata la partita del decennio e se l'ho vista è solo grazie a te, grazie a te. Eh lo so amore, sua moglie che ti manda la partita, abbiamo anche Gigi che ci fa la spesa gratis Guarda amore, io da te non pretendo tanto, però me lo fai un favorino piccolo piccolo Scaricati l'app MyCare, così almeno la prossima volta ve la sbrogliate direttamente tra di voi, no? E fai vedere? Eh lo so, è la milionesima volta che te lo dico, adesso ti faccio rivedere come si fa È facilissimo, tu scarichi l'app e poi devi soltanto inserire il tuo codice fiscale, il numero della tua polizza, una mail e una password che scegli tu Più facile di così È facile È facile Posso fare? Ma certo che puoi Con la sciarpa non ci dormi Perché? Non ti piace? Bella Ciao Ciao Grazie a tutti